I derby sono sempre molto particolari, partite molto sentite, cercheremo di fare un grande derby, un grande partito perché è importante non allontanarci dalle posizioni alte. Credo che potremo far bene, anche l'Inter non sta attraversando un bellissimo momento, ma dobbiamo fare molta attenzione perché, come dicevo prima, è particolare i derby e quindi dobbiamo prepararci bene. Bisogna andare indietro tanti, tanti, tanti anni perché si va nel 1979, il mio primo derby vinsi, quindi fu per me anche molto importante perché è il primo anno che giocavo, vincemmo anche lo Scudetto, fu gol di Maldera, mi ricordo, fu una grande gioia, una grande soddisfazione, è stadio pieno. Poi, in quegli anni lì l'Inter era anche più forte, era anche favorito sulla carta e vincere diede doppia soddisfazione. La squadra sta crescendo, sta trovando il giusto equilibrio, tutti devono aiutarsi, tutti devono lavorare per un unico obiettivo, qualche volta concediamo qualcosa, bisogna migliorare per avere la continuità nei risultati, quindi concedere meno è fondamentale.